Un nuovo outlet ad Arizzo? La Confesercenti scende in campo ancora prima che si inizia a parlarne in difesa del commercio aretino, dopo che nelle ultime ore sta circolando insistentemente l'ipotesi della realizzazione di un outlet in città, probabilmente nella zona della Carbonaia, anche se la proposta pare non sia ancora arrivata sui tavoli del comune. Si parla, secondo Confesercenti, di 25.000 metri quadrati di commerciale per uno shopping park che fino ad oggi ha preso forma sulla carta e che pare pronto a decollare senza che però ci sia stato un dibattito e un confronto. Immediato dunque l'alt di Confesercenti che mette le mani avanti. Sarebbe la mazzata finale per i negozi tradizionali, commenta il direttore di Confesercenti che Caglini. Abbiamo contrastato l'ex area l'ebole, non faremo sconti a nessuno, vogliamo sperare che anche il comune sia dalla nostra parte in difesa del commercio tradizionale che soffre. A mettere in allarme la categoria è l'insistente voce che circola negli ambienti economici e commerciali avvalorata dall'avvio della commercializzazione in pre-lease di uno shopping park che sarà realizzato ad Arezzo. La comunicazione spiega che Caglini è partita da Italia Sviluppo Retail, la società che già cerca acquirenti per riempire gli spazi commerciali. Si chiamerà Arezzo Shopping Village con una superficie commerciale da 25.000 metri quadrati con una food court di 4.000 metri quadrati. Sono questi giganteschi volumi commerciali che caratterizzano la superficie del nuovo progetto di Arezzo Shopping Village che al suo interno ospiterà Fashion Village, Home Village, Lifestyle, nonché piccole e medie superfici per uno shopping generico. Valeria Alvisi, vice direttore di Confesercenti, si dice preoccupata sull'eventualità di veder costruire in città un outlet per il quale c'è già anche un'immagine e un luogo anche se fino ad oggi la realizzazione è stata mantenuta al coperto. La superficie di 25.000 metri quadrati di commerciale è inimmaginabile anche alla luce delle normative. Il timore è che si propongano magari 25 strutture da 1.000 metri quadrati facendo uno spezzatino, ma che in pratica non è altro che un outlet. Secondo Mario Chicaglini, Arezzo non ha bisogno dell'ennesima area artificiale dello shopping e la città non ne sente la necessità. Al contrario, 25.000 metri quadrati di commercio possono rappresentare il colpo di mannaia per la sopravvivenza dei negozi nelle strade del centro e tra le arterie commerciali cittadine.